Fin dal momento nel quale è nata la donna nel mito, le donne sono state vittime di ingiustizie. Parlare della prima donna vuol dire parlare del momento nel quale sono nate le discriminazioni di genere. È dal corpo delle donne che nascono i figli. Qui c'è una cosa interessante, perché in realtà gli uomini sono invidiosissimi e vorrebbero essere loro a partorere. La discriminazione di genere, su quale fondamento si basano? Uno dei fattori è la differenza tra i corpi maschili e i corpi femminili, il modo in cui vengono valutate queste differenze. Conoscere il passato è assolutamente essenziale per capire il presente e anche per progettare il futuro. Ora... Grazie a tutti.